Chi ha i dati per la zona gialla, visto che siamo tutti ispirati e spinti dal decreto ripartenza, è bene che in modo omogeneo, anche se in una regione grande come la Toscana ci possono essere punte a 100 su 100.000 contagiati o in altre zone a 300 su 100.000 contagiati, è bene che il territorio e la disciplina sia uniforme. Con un RT dello 0,88 e con 186 casi a settimana ogni 100.000 abitanti, la Toscana è gialla da questo lunedì e la scuola riaprirà, ma si andrà gradualmente al 100%, cominceranno le quinte che hanno un esame da preparare, quindi si partirà gradualmente dal 70 al 100%, lo ha detto il presidente della giunta regionale, Eugenio Gianni. Per le scuole saranno questa volta non i presidenti della regione, come era disciplinato nel decreto legge di gennaio, ma invece l'autonomia scolastica, ovvero i presidi che chiaramente rispondono poi al dirigente scolastico regionale e al ministero, saranno loro a articolare dal 70% al 100% la presenza delle superiori nelle scuole, mentre al 100% per i servizi all'infanzia e le scuole dell'obbligo. Anche i dati dei ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive degli ospedali toscani sono incoraggianti, ha detto il governatore, che al tempo stesso si raccomanda affinché tutti si attengano alla massima cautela indossando mascherine e mantenendo il distanziamento. La guardia non va abbassata anche se si vede la luce in fondo al tunnel. Di mantenere la mascherina, le distanze, un atteggiamento individuale di protezione anche per se stessi e per gli altri. Quindi... Grazie.